Un po' la prova del nome per questa difesa? Sì, perché incontriamo forse l'attacco più forte che c'è in questo campionato, però mi è piaciuta molto la fase difensiva, devo dire anche contro il Palermo, contro il Palermo abbiamo fatto un errore e abbiamo preso un gol, poi abbiamo visto tutti come è andata, la partita è stata chiusa più per un episodio che non per errori nostri, però il banco di prova dell'Empoli è un grande banco di prova, se la difesa tiene bene in quel contesto lì può tenere bene in tutto il campionato, mi viene in mente una frase di Mourinho che aveva detto quando stava in Portogallo agli inizi della sua carriera che pareggiando contro il Milan in un incontro di Europa League o Champions League, non mi ricordo, ha detto se oggi abbiamo pareggiato con il Milan allora so che da oggi possiamo battere tutte le squadre, il banco di prova nostro è che se facciamo una grande partita difensiva contro l'Empoli che è uno degli attacchi più forti del campionato, probabilmente la strada giusta da seguire è quella della difesa 3, però non si può parlare prima della partita, quindi analizzeremo tutti come sono andate le cose. Hai citato il Palermo, cosa rispondi al comunicato ufficiale in cui hanno elogiato la prova degli arbitri anche in occasione della partita delle gare? Ognuno guarda in casa propria, io parlo solo del Padua, quindi abbiamo tutti gli occhi per vedere e valutare, quindi non è casa nostra, io parlo solo della casa nostra, del nostro recinto qua di Bresseo, del nostro stadio, della nostra squadra e della nostra città, quindi se loro pensano quello andranno un pochino controcorrente. ti faccio guardare in casa altrui, ma per guardare in casa nostra, l'anno scorso l'Empoli ha fatto il primo vittorio mi pare dopo nove partite, senza cambiare allenatore, senza stravolgere contro in cose. A rimortarci, se la ricorda. No, me la ricordo perché era 3-2, ci ha negato un rigore del 3-3 e poi è finita 4-2, però no, no, al di là di questo, adesso non siamo qua a parlare del futuro, è il futuro della squadra, il futuro è quello della classifica, il futuro non è il futuro di Dario Marconi, il futuro è del nostro gruppo. In questo momento allenatori e giocatori sono tutti sulla stessa direzione e la partita di Novara lo ha dimostrato. In questo momento, questo affiatamento tra di noi deve produrre dei punti, indubbiamente il campionato e il calendario non ci ha dato una mano, però noi passiamo la testa e lavoriamo, non abbiamo altra soluzione. A posto? Vado? Vado. Grazie. Vado a preparare il lavoro. Grazie.